La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi del Sistema Conf Commercio di Catania, torna sul caso Deors e lo fa con un esposto rivolto al sindaco e all'assessore alle attività produttive, al questore, al prefetto, al procuratore della Repubblica e alle forze dell'ordine per chiedere chiarimenti sui criteri con cui si sta procedendo ai controlli sulle strutture esterne dei pubblici esercizi al fine di rilasciare o rinnovare l'autorizzazione. Da segnalazione arrivate da molti operatori del campo della somministrazione, infatti ad alcune attività vengono richiesti accertamenti tramite il corpo della polizia, sezione edilizia e della direzione urbanistica, mentre nei confronti di altri esercenti non viene disposto alcun tipo di controllo, procedendo anzi al rinnovo automatico dell'autorizzazione stessa, un comportamento difforme e denunciano a fronte di uguali fatti specie. Ancora una volta, afferma Dario Pistorio, presidente provinciale e regionale FIPE Conf Commercio, ci ritroviamo a chiedere chiarimenti perché non esiste un regolamento che disciplini la realizzazione delle strutture esterne di bar e ristoranti. È difficile per un esercente operare quando non ci sono norme precise a cui tenersi, ma riteniamo sia altrettanto difficoltoso fare controlli se non ci sono regole da fare rispettare.